Chris Vector Deluxe numero 27 e in questa occasione abbiamo un bellissimo Chris Limited Edition. Ringrazio i ragazzi dell'SD Viper Force di Torino che si sono affidati al Lab ATJ per customizzare questa bellissima replica e ora non ci rimane che fare il nostro consueto test di tiro per vedere come tira e soprattutto come suona un Chris Vector Deluxe. Mi hanno chiesto anche il logo ATJ su caricatore inciso al laser e ora vediamo. Sempre ultra preciso e silenziosissimo. Ragazzi ci vediamo al prossimo custom. Ciao!